La Facultà di Ingegneria dell'Università Federico II di Naples, seguendo un'initiativa del Departamento di Ingegneria Meccanica per l'Energetica e con la alta patronage dell'Assessorato all'Università e alla Ricerca Scientifica della Regione Campania, propone per il anno di oggi l'Università dell'Università e della Ricerca Scientifica della Regione Campania di Ingegneria Automotiva, la flotta di un'appartamento di un'appartamento di un'appartamento. Il Master è stato accorgetto e supportato da sponso importanti, stati locali e instituzioni di risultati. Per me, la demanda aumentata di l'appartamento di un'appartamento di un'appartamento di un'appartamento tecnica e scientifica, principalmente inoltre con l'innovazione e il design di prodotti e processi in campo di automotivi. Il Master è dedicato a studenti di un'appartamento di un'appartamento di un'appartamento che, cercando di ottenere obiettivi importanti professionali, cercano a sforzare, specializzare e completare i loro capacità e qualificazioni acquisiti durante gli studi dell'Università. Per me, i gesti, essenzionali di un'appartamento di un'appartamento nutrizani in una serie sportена, ntele PLAN. tecnici per gestire i sistemi integrati. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è supportato da un gruppo grande di società privati. Delle loro sono istituzioni prestigiose di livello internazionale, supportando l'initiative con le loro competenze. Queste società offrono una fase in cui i partecipanti migliorano i loro esercizioni e esperienze e si impostano i reporti per essere discutiti durante la loro esaminazione finale. La fase finale dentro delle società rappresenta un modo relevante per controllare la validità delle capacità e delle capacità acquistate. La maggior partecipanti sulle edizioni precedenti sono attenzionati nelle società più importanti nel settore dell'automotività italiano. La scuola motocicola La scuola motocicola ha una scuola di testa full-scale per testare la dinamica longitudinale delle motocicoli. La dinamica delle motocicoli è testata su una tavola di strada, totalmente equipata e controllo remontamente. La motocicola sta sull'automotività. I testi possono essere fatti utilizzando la motocicola motocicola per riuscire l'automotività e anche per la spazio della motocicola elettrica del sottomotività del sottomotività. La scuola motocicola DIME ha due scuola di testa separati per i motori di diesel e per i motori di petrol. Tests sull'operazione motocicola, emissione motocicola e l'elettronica sono stati in sottomotività di test bed per l'uso di sistemi sensori e sistemi di acquisizione a parte del fronte. I ricordi hanno fatto un sistema di combustione alternativa e metodi innovativi per l'filterazione di exauce per minimare l'emissione dell'emissione. PIN-ON-DISC La macchina di PIN-ON-DISC è usata per testare l'acqua e l'acqua e la friccia di sampli da tredi. Tests su PIN-ON-DISC permettono di ricostruire le caratteristiche di friccia delle tere sulle condizioni diverse La macchina di PIN-ON-DISC è stata completamente disegnata e realizzata a DIME. Due al suo equipamento e alla sua flessibilità è possibile evaluare la mixtura di tere sulle condizioni in diverse condizioni di lavorazione. PIN-ON-DISC Il test bed per le vibrazioni e l'acqua di rinforzioni può essere condutato a DIME. Il fenomeno del rinforzioni della linea di rinforzioni è riprodurato e studiato nel laboratorio su un test bed che rende possibile riprodurare le stelle condizioni in cui sta succedendo. Il studi dell'acqua di rinforzioni è condutato sul test bed usando i rinforzioni da diverse posizioni informazioni del maestro Il maestro UNI-NAUTO Secondo livello di maestro di acquistare per ingegneria automotiva Grazie a tutti.